Ciao ragazzi, qui è Enrici e niente, volevo portarvi questo video per informarvi che sto portando in live la carriera allenatore con il Bari. Dato che mi dispiace che ci sono solamente massimo massimo 30 persone in live, dato che prima ne facevo anche 200, magari qualcuno di voi non è al corrente di questo, magari non lo sa, quindi volevo avvisarvi con questo video molto rapidamente. Altra cosa che volevo dirvi, purtroppo per il momento sto portando in live questa carriera perché praticamente io abitando fuori casa, studiando fuori casa, non ho il tempo materiale, però torno di solito il venerdì, sabato e domenica e almeno in questi tre giorni, a volte anche il giovedì dipende, però almeno in questi tre giorni provo a portarvi almeno una live al giorno, da un'ora, un'ora e mezza circa, così poi potete anche rivedervi gli episodi, per non lasciarvi a zero, logicamente. E' anche divertente, devo dire, perché ci stiamo appassionando a questa carriera ancora di più, a questa terza stagione, siamo primi in classifica, quindi tanta tanta roba, e mi piacerebbe che veniste tutti quanti a vederla questa carriera in live, perché ci divertiamo, esultiamo insieme, scambiamo anche qualche parere, che ne so, durante la live nel campionato attuale, nella realtà di Serie A, parliamo di squadre estere, di vari giocatori, quindi ci divertiamo parecchi. Quindi ragazzi, dato che YouTube magari non aggiorna le feed, non manda le feed, non fa questo e quell'altro, magari vi ho voluto avvisare con questo video. Spero che partecipate tanti, 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 veramente numerosi, nelle prossime live. E niente, un saluto da Ricky e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!